Se questo video raggiunge i 5.000 mi piace, mangerò per 24 ore solo cibo sul gelato, quindi sporgiate qui sotto. Bello a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti a un nuovo super video sul mio canale YouTube. Io sono Matteo Di Cola e sono ancora in quarantena a casa, quindi oggi... Te la vinde il culo! ...farò un'altra 24 ore, perché in tutta quanta questa giornata mangerò solo ed esclusivamente cibo rosso. Andiamo bene, proprio bene. Mi sembra il momento di fare colazione, perché sono le 10 e mezza e quindi mangerò delle ottime fette biscottate, biscottate, con marmellata di fragole e un ottimo succhetto di arancia rossa. Ah, le fragole sono rosse, eh? Cioè, mo' non so se in marmellata un po' perdono il colore, però siamo tutti quanti consapevoli che le fragole siano rosse. Ecco qua, è rossa! Io ovviamente, come il mio solito, ho dato degli spoiler di questo video su Instagram, quindi se non l'avete ancora fatto, link in descrizione e me ne hai dimesso qui su Instagram. Mamma mia, mi fate colazione che fette biscottate? Un bocco! E va bene ragazzi, la colazione è andata. Ci vediamo per la merda. 3 ore di merenda e quindi chipster. Ragazzi, queste non sono rosse. Cioè, le chipster in se per sé non sono rosse. Ma la scatola è rossa, quindi vale. Non è perché c'erano voglia di chipster. Manifestia il piercing! Però se voi le vedete, così, uscire direttamente dalla scatola, sono le cose, lo so. Guarda, le cose le decido io! Tu stai dicendo mare di cazzate? Vattene a fanculo per cortesia! 85 grammi di chipster sono una malanga. Mentre normalmente 85 grammi di qualsiasi altro tipo di patatine sono 4. Sono soddisfacenti. Ecco, il termine esatto per le spiega chipster è soddisfacenti. Ci vediamo nel pranzo. Il mio pranzo di oggi sarà della simmental, ragazzi. Mia madre dice che mi piaceva un sacco. Poi a un certo punto ha smesso di piacermi. Io però non mi ricordo come si mangia. Pronto? Senti una cosa, mamma, a parte non dire cose strane, sto facendo un video su YouTube. Ho comprato della simmental da mangiare per pranzo. Come posso mangiarla questa simmental? Cioè io apro la scatoletta e... Noi, quando eri pure più piccolo, la mangiavamo condita insalata così a freddo. E una goccia d'aceto, ma proprio una goccia. Oppure in una dieta, una volta un dietologo me l'aveva messa, che però la dovevo scaldare per far togliere un pochino di quella gelatina a mangiarla così calda. Non credo che la scaldo. A me, come la preferisco io, che la mangiare pure tu, insalata. E insalata sia. Grazie. E anche qualche pezzetto di cibo, una fresca, se ce l'hai. Ma ce la dovrei avere. Va bene, grazie. Va bene. Ciao. Niente. Ciao. Mi preparo la simmental. Ok. Un po' un po' senso. Un bel po' senso. Sembra? È brutto da dire, veramente. Con tutto rispetto per signora simmental azienda, ma sembrano le scatolette dei cani. Un po' di olio, dei pezzettini di pane, delle chipster. Oh, avete scoperto che non sono rosse. È proprio, vedo, c'è proprio una faccia da stronzo che non finisce mai. Black's bebon, black's bebon. Oh, black's bebon. Buon appetito. Effettivamente non è così male. Un po' di città e poi mi sono spostato. Mi sembra una di quelle cose che uno mangia molto molto veloce e che tipo tarangi, capito? Non so quelle cose che tieni lì e che non se rovinano. E a tal proposito, ho avuto un'idea. Se questo video raggiunge i 5.000 mi piace, mangerò per 24 ore solo cibo suggerato. Quindi ho l'idea di qui sotto. Buon pranzo a tutti. Comunque, devo dire che non è che è stato un pasto completo di più. Sono pienissimo. Ci vediamo per la merenda. Ragazzi, è ora di merenda. Io sto giocando a COD. Se mi volete aggiungere, sono così. E niente, di rosso adesso abbiamo la bresaola. Quindi ora la mangio. Merenda bresaolosa con COD. A me me ne frega un cazzo, andiamo a piagerato. Bresaolina. Non so scherfare la infaggia. Merenda proteica. Ci vediamo. Dopo non faccio due partite. Accordo che stai iniziando la partita. Bella. Ci vediamo dopo. Amore, voglio fare un'altra merenda. Prima di cena. Però non voglio mangiare schifezze. Tipo te che ti stai mangiando un dolce a cioccolato. Eh, beccata. Quindi mangio una mela. L'ennesimo cibo rosso di questo video è una mela. Ciao. Con il dolce a cioccolato. Con il dolce a cioccolato. Oh ragazzi, stasera per cena spinaci. Per benedetta. Io ho questa. Oh, sono appannati. Ah, brucia, brucia. Io per cena ho questa. Un quadratone di pizza rossa. E' un roba inspegibile. Bella che già era la pizza, quella ambustata, non è il massimo. E' più amato, scontato dal forno e diventato seccato nel secco, no? Qua non è così male. Se devo ammettere, c'è proprio dove si sceglie. C'è in tranche di pizza rossa. Con gli spinaci, buona pizza rossa. Ci vediamo. E il dopo ce n'ho. Ok, 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 ok. Stiamo vedendo. Ragazzi, questo video sta giungendo al termine. Chiuderemo questo video di 24 ore mangio solo rosso con un tronchi. Che non è rosso dentro. Però è rossa all'infezione. Cioè non c'è qualcosa di più rosso di questo. Quindi... Questo video termina qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate mi piace e condividetelo con gli amici. Se il video non vi è piaciuto, lasciate mi piace e condividetelo con gli amici lo stesso. Perché non è giusto che la fregatura la prendete solo voi. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ma non è un bel trucchio. Assurdo. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.